Nel corso dell'ultimo tavolo regionale sul petrolchimico è stato sottoscritto a Bologna un documento che preveda obiettivi come il mantenimento delle produzioni del quadrilatero padano di Ferrara, Ravenna, Mantua, Venezia, coniugare lo sviluppo industriale, economico e sociale con la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente e la richiesta infine al Ministero dello Sviluppo Economico di arrivare a breve ad un accordo operativo per regolamentare le attività di ricerca ed estrazione del gas a mare, come già fatto per quella terra. Il documento punta sulla necessità di tutelare il patrimonio di professionalità, tecnologia e specializzazione, nonché dell'occupazione, rilanciando i poli petrolchimici di Ravenna e Ferrara. Tra gli obiettivi del documento condiviso c'è la proposta di siglare con il Ministero dello Sviluppo Economico un accordo operativo come quello sottoscritto tra lo stesso Mise e la Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio e il controllo delle attività in terra ferma di coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Questo per regolare anche le attività estrattive offshore che interessano le aree di mare oltre le 12 miglia e per applicare in maniera condivisa i sistemi di monitoraggio finalizzati alla conoscenza di tutti gli impatti sull'ambiente e sul sistema costiero. Il settore petrolchimico in Emilia-Romagna conta oltre 2.000 unità operative e circa 22.300 addetti. Il settore petrolifero conta 976 aziende che occupano oltre 9.000 addetti e a Ravenna è concentrato il 13% delle aziende regionali del settore. Il settore petrolchimico in Emilia-Romagna